Ecco Schakiri, per avanti sia Kanji sia Scherra, parte l'attività! Si palla in gol, la rete di Zuber, la Svizzera pareggia in gol e chi se lo aspettava di Zuber che è il piccoletto del compagnolo, che sovrasta tutti quanti per una scelta con un timing semplicemente per questo e la Svizzera ce la vediamo se Zuber sull'1 a 1. Grazie!